...e quanto si vede in cielo, le vostre mani, i vostri tiri, molti estri, cioè se tutte le avrete devono contare i soldi e se il nostro sogno, il nostro imparato è salvato, non ha funzionato tanto, non si credo, no? ...e quanto si fa, c'è un incidente in cilera, quindi chi lo dice che non deve lavorare così tanto, non deve avere così poco, e come si vede in Italia, come si vede in Italia, come si vede in Italia, ...e quanto si vede in Italia, ecco, è il nostro lavoro, ora è la cadera, la nostra buona taglia, la fortuna lune. ... ... ... ...